Nella storia del popolo armeno è continuata la passione di Cristo, ma in ogni pagina di essa c'è anche il germoglio della resurrezione. Francesco parla ai vescovi armeni cattolici arrivati a Roma per celebrare messa con lui domenica a San Pietro e proclamare dottore della chiesa all'armeno San Gregorio di Narek. Ma la coincidenza non è casuale coi cento anni del genocidio armeno, anche se la Turchia rifiuta questa parola e neppure il Papa oggi l'ha usata. Invocheremo la Divina Misericordia perché ci aiuti tutti nell'amore per la verità e la giustizia a risanare ogni ferita e ad affrettare gesti concreti di riconciliazione e di pace tra le nazioni che ancora non riescono a giungere ad un ragionevole consenso sulla lettura di tali tristi vicende. I fatti, racconta la storia, sono il massacro di un milione e mezzo di armeni nel 1915 ad opera della nascente Turchia e delle sue politiche nazionaliste. È il misterium iniquitatis, mistero del male, Francesco dice, di cui sono capaci le forze più oscure del cuore dell'uomo fino a programmare sistematicamente l'annientamento del fratello. Il pensiero va quindi al predecessore Benedetto XV, che allora si adoperò per far cessare i massacri e ad altri massacri ancora, oggi. È tristi a nota Bergoglio vedere che là, come ad Aleppo in Siria, dove i pochi sopravvissuti armeni trovarono scampo, oggi è in pericolo la sopravvivenza di tutti i cristiani. Grazie 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 Grazie